bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video mi raccomando non mancate lunedì 12 luglio alle ore 12 per l'annuncio bomba sul mio canale twitch vi aspetto dai non vai giro vai giro cristo ciro vai fuori dai c***o di ballo per chiesa ballo per chiesa chiesa la rete dell'italia la rete dell'italia il col di chiesa il col di chiesa let's go let's go però che sia chiusa la finestra il col dell'italia cosa vuole come cosa c'è nylix giovanni c'è un problema c'è un problema brutale 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 salvaci ti prego che non pensavo che ha presso una voragine niente da fatto no dovevo caricare il dio di chiesa cristo beh va questo non snap è il snap totale oltre a snapparmi oltre a snapparmi ti ho distrutto ti ho distrutto facciamo l'ultima zio secondo me no secondo me si chiesa c***o di c***o c***o di c***o ma non posso tercela in faccia mentre mangio cristo ma io cosa ci posso fare un c***o tu non ci puoi fare un c***o mettila di incazzati che tanto non risolviamo niente se ti incazzi adesso no non è paura è giramento di c***o questo è uno speed alert è uno speed alert è uno speed alert è uno speed alert ovviamente ilcenteredo il padre di million i che badmare gialfiannel ora io non so se l'ho ripresa non ce la faccio la che mi viene da sudare fa non riesco ragazzi non sono in grado e così abbiamo l'atmosfera soft ragazzi non è male così eh adesso va benissimo lo so è questa luce che smettila di farmi le boccacce smettila di farmi le boccacce ma non ho fatto niente è tutto per cosa per crearti il best moment io gli dico col cavo ma io non ho fatto nulla basta un bogo di zucchero e la pila va giù va giù andiamo conoscevo gente che prendeva le pilone senza zucchero no no l'errore di xuder eccolo qui l'errore eccolo qui l'errore eccolo qui eccolo qui che il bot viene fuori eccolo sì c***o xuder perdi contro i bottazzi let's f***ing go bravo applaudiamo il c***o bravo di lì vaffanculo io sto impazzendo io sto impazzendo io sto impazzendo non ce la faccio non ce la faccio allora buono bellissimo eh questo è god eh questo è god io non ho audio mi rompe l'anno mi rompe l'anno no no compito il legsio dio benedetto del cielo fai qualcosa fagli esplodere il pc ah non è lui cosa lo vai a fare in gu figa la casella figa la casella oggi non può stare senza voti mamma mia porto garibaldi aperta da metà del novecento magari questo pezzo grosso non guardiamo anche quello qui no adesso sono piccolini asciugati sei tutto rosso come una mina buonasera sherman porti di cantare la canzone di introduzione di madre natura di ciao darwin come in uno dei tuoi funny moments più famosi adesso porchetta e con delicatezza non l'ha visto non l'ha visto oggi cucineremo la pasta la 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 pasta questo scotta ma non mi interessa con tranquillità però con tranquillità perché esiste il rischo che si inceppi alla partenza e che inizi a fare tatatatata aspetti se comincia a segare in giro un casino no ma non penso che faccia proprio così aspetti un attimo ragazzi c'è qualcosa che non lo sapevo Grazie ho anche la possibilità di scegliere il tipo di birra Pasta tonno e filadelfia Carbonara Oh Cosa sta facendo Smettiamola di Prendola bere Prendola bere Porca miseria Oh Come mai Come mai Ma che vorrai Se snappo poi tu sei L'hai preso con prepotenza Mi dispiace assai Dimmi come mai Tu qui verrai A snappare me Forse un'idea ce l'ho Hai smesso di farti le se Che Fallito del cazzo Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.